Davide, i ragazzi qua non hanno potuto fare un riconoscimento, un castigo, perché senza dirti non c'avano rinforzato a questi due campionati del calcio di città e del calcio sessi, quindi... No, la mia è l'ullone, i due capitani, i pregati di venire qua. No, pensavo... No, pensavo scherzo. E' sempre un accidente. Botti come a te te lasciano scia di morte. Beh, uno a testa gliel'ho consegnato, dai, insomma. Bravo! Pazzoletto! Poi c'è anche un regalo materiale, perché purtroppo sappiamo che tu sei un po' irascibile. Esatto. E' una bottiglia di birra, ovviamente. Rotta! Rotta! Di gomma, però, di gomma. E' una cosa che sembra che hai perso, spaccato, quindi, insomma... Siamo tu. Cosa era? Eh, vado a vedere qua, eh! Cosa era? Eh, che il metale questo non è un ebbe, ma... Capito, c'è la mia che compagno? Io puoi prestare il weekend, eh! Cosa era? Cosa era? Cosa era? Cosa era? Cosa era? Eh, vado a vedere qua! Cosa era? Cosa era? Cosa era? Bella col testo! Oh, grazie! Bravo! Oh! Un bacio ai capitani, però, eh! 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 Se voi pensate fu ciò scherzo di che tipo di maestro. Ah! Ti sperai, che fosse bello. Questo qua lo dividerò a metà con Andrea. E Andrea ho perso un orologio... Sapete che quando io non ho mai un orologio, ho mai scelto troppo... non ho mica più perché non mi dà frediente avere qualsiasi roba in intorno. Perché dormando sempre l'orologio perché... Soprattutto porreno... Eh Andreaoo... � Aggrappetto ho perso un orologio molto importante, infatti ti abbiamo preso posto a quello col cordino... Allora, grazie... Quindi vuole... Sì quindi premelo che, insomma... Grazie a tutti.